Salve, buonasera a tutti e ben collegati qui da Uggento dal Palauzan Tiziano Manni dove oggi avrà luogo il la grande sfida tra Giuseppe Carafa e Francesco Cadullo che si contenderanno il titolo italiano dei pesi leggeri pro e cominciamo subito a entrare in marzo che pregata anche oggi sarà con noi come la tradizione ormai a a scoprire quello di Skylip un po' che mi chiede di nuovo un po' che mi chiede di nuovo sì 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 ci sei ci sei forse no in realtà lo sai allora aspetta che mettiamo la nostra camera larga pensiamo di risolvere questi problemini sì 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 stai Ok Marco Adesso ti dovremmo sentire come si deve Eh si adesso ti sentiamo Dicevamo Marco A noi 10 match questa sera Direttantistici più Main event della serata Carafa Catullo per il titolo Italiano Pesi Leggeri Oggi come avevamo Già detto Nell'introduzione di questo Di questa grande serata c'è anche La particolarità Di Santoro Di Nicolas Santoro Che combatterà più o meno A metà serata Che avrà nell'angolo Suo padre Dinamite che è un Pugile ancora in attività Quindi una cosa particolare Vedremo oggi Il padre e il figlio La nuova leva Della famiglia Padre e figlio che vanno Vanno Nello stesso angolo Sarà una Cosa particolare Allora Marco Vediamo il Palauzan Che si sta Riempiendo Siamo già in 49 A vedere questo spettacolo Ci fa piacere Leggiamo un po' di Di commenti che stanno Arrivando Vediamo tanti Tanti tifosi Di 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 scrivere in chat giustamente cadullo è fuori casa quindi avrà tanti tifosi che lo seguono da lontano ne approfittiamo per mandare degli spot in attesa grazie allora Marco vogliamo iniziare a dire chi sono i primi sfidanti si partiremo con categoria 55 kg abbiamo Caputo Nicolò della Body Alive di Melissano e Debitonti Gioele della Baybox di Copertino sono di school boys ragazzini 13 anni con le prime armi abbiamo Caputo che è il suo secondo match Debitonti Gioele è il terzo match ricordiamo a tutti quelli che si sono collegati solo ora e che ci seguono da Uggento e dei paesi limitrofi che oggi ci sarà davvero uno spettacolo fantastico qui al Palauozan quindi vi invitiamo tutti a venire se ancora non avete fatto il biglietto i bottichini sono aperti il main event è atteso intorno alle 11 certo prima ci divertiremo comunque con nove incontri no Marco? dieci no? dieci dieci speriamo che vada tutto bene anche dal punto di vista tecnico che come sappiamo qui dal palazzetto di oggetto è sempre una un'incognita con il collegamento comunque stiamo stiamo registrando la serata la ricaricheremo anche in qualità maggiore vi invitiamo in caso di problemi a commentare a scrivere subito vediamo il palazzetto di oggetto che si sta riempiendo anche sulla curva sta stanno arrivando vediamo i miei ragazzi ne approfittiamo di questa pausa per condividere il link giustamente sui nostri social città non 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 Grazie a tutti. 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 E' una prassia. Tutto normalissimo. Ok. Era colpa mia perché avevo le cuffie basse e non ti sentivo Marco. Di fatti ti sento molto meglio in cuffia adesso. Comunque i commissari di gara ci sono gli arbitri, li vedo tutti i bordering, mancano gli atleti. Sì, penso che sia più o meno tutto pronto. Torniamo su di noi per l'occasione indosso una maglia particolare che è la maglia del portiere Francesco Maggi dell'Ugento Calcio perché lo vogliamo ricordare oggi è solo l'aperitivo del grande sport qui a Ugento perché domenica c'è l'ultima partita di campionato, il campionato dell'eccellenza. Ricordiamo che l'Ugento ha già vinto matematicamente il suo girone, domenica potrebbe fare l'ultimo passo, no il penultimo dai, il passo verso qualcosa che per tutti è sempre stato un sogno invece. Anche atteso. Invece da qualche giorno stiamo cominciando a pregustarlo. Allora vediamo i primi atleti a prepararsi per andare su il nostro cameraman che si prepara. Quindi all'angolo rosso chi avremo Marco? Avremmo Caputo Nicolò della Body Alive di Melissano esordito il 10 marzo. Questo è il suo secondo match ed è figlio del tecnico Alessandro Caputo e anche nipote del campione italiano dei pesi medi 2015 e 2017 Andrea Manco. Ah, beh, si cazzo Andrea, no? Sembra che abbia preso le sue caratteristiche da picchiatore. Vediamo, categoria 55 kg. Presentato adesso, mentre all'angolo blu abbiamo Debitonti Joere, ragazzo sempre presente in palestra, a scuola, è diligente per questo. Due match, due vittorie nel suo terzo match, minerato da Simone Mannino, il tecnico della Bebox. Vediamo. Vediamo il ring che è pronto. Vediamo gli angoli che stanno sistemando gli ultimi dettagli, ragazzini giustamente combattono con i caschietti. Questo si usa sempre i caschietti, con tutte le dovute protezioni, prenazioni, perché comunque l'obiettivo è, oltre a divertizi, preservare gli atleti, i piccoli e grandi atleti e prometterli, diciamo, una camera lunga e senza complicanze. Anche perché se iniziano già queste lava. L'angolo rosso invece è già pronto. Bello tarchiato questo ragazzo dell'angolo rosso. Comunque 50-50 kg a 13 anni è abbastanza. Un saluto per l'angolo blu. Tutto pronto. Iniziamo con il primo match della serata. La campanella, saluto tra i due. La campanella, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo. La campanella, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo, saluto per l'angolo. Il primo round abbastanza... No, alla pari anche se abbiamo visto l'angolo rosso, Caputo... Forse ha più iniziativa, Caputo. Cercava di accorciare, è andato giù duro, eh. Vediamo un replay. Proprio della prima azione. Abbiamo visto colpire due o tre volte, no? Caputo, l'abbiamo visto. Potremmo montare anche sui replay delle migliorazioni questa sera. Marco, abbiamo disseminato telecamere su tutto il campo. Cercheremo di rendervi questo spettacolo al top. fuori secondo. Andiamo a vedere l'angolo rosso. Partiti. Grazie. 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 E vediamo ancora Caputo, no? Che prende l'iniziativa, invece l'angolo blu si difende. Debiton ti cerca di tenere distanza a tutti altri. Non degli altri più lunghi. Grazie. 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 Salutiamo anche chi ci sta vedendo. Salutiamo soprattutto Luciano Basile che fa parte del nostro staff oggi. ci può seguire speriamo che ci segua in diretta e che ci avvisi subito in caso di problemi ciao luciano tra poco comunque tra il primo dopo il primo match andremo anche a fare un giro con la camera mobile per far vedere anche quello che sta succedendo intorno marco è il terzo e ultimo round si possiamo dirlo penso che sia in vantaggio caputo si arriva quello diciamo e ancora vedi caputo che spinge l'avversario nell'angolo poi non molla di portare all'angolo e cerca di chiudere distanza qual ha preso colpi mentre e pilonti risponde a 12 quali per massimo diciamo che è più picchiato ora caputo nell'impostazione abbassa la testa e va avanti finito qui fatto dalla camera dall'alto vediamo il palaplay Zan che inizia a riempirsi sempre di più, questo ci può fare solo piacere perché è importantissimo venire a tifare Giuseppe quest'oggi, ma andiamo a vedere il parità, la categoria è giusto, anche per incoraggiare gli atleti a proseguire. Allora Marco, cosa ci attende adesso? Adesso abbiamo la categoria Junior, siamo sui 15-16 anni, quindi vedremo atleti un po' più grandi rispetto a quest'ultimo match. Un po' più grandi ma leggermente tre chili in meno. Ah, fa più leggeri. Abbiamo in guscio Stefano, l'angolo rosso è da Mori David. Justin! Andrea! Ciao! Grazie a tutti. Ok, abbiamo messo anche in grafica i nomi dei prossimi spedanti, stiamo vedendo gli angoli prepararsi, beh dai se andiamo con questo ritmo siamo sicuri che la serata ce la possiamo tutta qua Marco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti coloro che sostengono il progetto di Ozan News, ricordiamo a tutti che noi viviamo solo e esclusivamente grazie all'aiuto dei nostri sponsor. Passiamo adesso alla presentazione della seconda coppia, anzi no, è la prevenzione, scusami Marco, non ero stato attento. Allora vediamo le round girl che premiano entrambi. Una bella esperienza per i ragazzi venire a fare... Un incontro anche in questo palazzetto che non è da tutti i giorni alla fine, però non è tanto pieno, però già il colpo d'occhio è bello. Allora che dici Marco, provo a fare un giro con Domenico. Aggiungo tutti i piedi oggi per la stabilità. E' un giro con il giro con il giro. sono tutti sbagliati e quindi questo dubitonti contro ma chi è l'esplosione ma saprà pure quanto gli si riscontra allora ci comunicano l'errore quindi sta per andare adesso quindi avranno inserito una coppia prima quindi abbiamo sbagliato nel dare i nomi al primo incontro in realtà sta per andare adesso in onda l'incontro tra Caputo angolo rosso e debitonti nell'angolo blu vabbè Marco sono cose che queste in diretta succedono sempre del resto siamo riusciti a confezionare i ragazzi che hanno combattuto prima cercheremo di nominarli più tardi sì dai cercheremo di investirli magari vado adesso torniamo siamo in bolla adesso possiamo ripetere adesso chi sono vediamo l'arbitra l'arbitro della gara quindi rimandiamo il giro grazie a tutti grazie a tutti tutto pronto tutto pronto iniziano acquerritissimi eh sì eh si sono subito buttati al centro del ring ma questa volta è l'angolo blu con debitonti che sembra aver preso l'iniziativa no? sta continuando con questi jeb a toccare tocca e scappa però Caputo c'ha un bel gancio destro no? altro bello scambio debitonti questa volta che è stato costretto a scappare vediamo anche dall'alto vediamo anche dall'alto un minuto e mezzo un minuto e mezzo molto molto aggressivi entrambi forse Caputo è un attimo più attendista cerca di essere più incisivo mentre la quantità di colpi di debitonti è maggiore vediamo fuori i secondi adesso stiamo vedendo il replay del del match precedente seconda ripresa e se le danno si stanno scambiando tanto grazie 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 a tutti. Alcuni replay del basi salienti a rallenti. Marco anche questo secondo round direi alla pari se le sono date. Diciamo che Caputo ha recuperato un po' di colpi che forse come quantità prima era un attimo indietro. Abbiamo visto qua nel replay un gancio di Depitonti andare a vuoto. Avesse preso avrebbe fatto male. Ecco qua abbiamo visto il tocco di Depitonti. Fuori i secondi. Ma si ricomincia quando scende i secondi. Si è ripresa. Grazie. 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 E' spavolto da bravo uscire di Depitonti. Grazie. 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 Vincere ai punti vince debitonti quindi martin c'è debitonti forse è andato più volte a segno rispetto a caputo molto attivo entrambi grazie 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 allora Marco io ne approfitto per andare a fare un giro e sentire quali sono le impressioni anche del pubblico grazie 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 Vincitore del torneo esordienti, ha fatto due match di grande temperamento. David, anche lui è atleta con gran cuore, come tutti, il suo sogno del cassetto è diventare un professionista. Anche lui ha vinto il torneo esordienti di quest'anno. Vediamo come sarà questo match. Grazie a tutti. Va giù, arriva un montante destro. E lo conta? Parte di inguscio. Non l'ha contato. C'è da le ginocchia da muri. E ancora una volta, arriva da lontano inguscio, no? E forse siamo stati anche a riprese da due minuti. Sicuramente, anzi. Ricordiamo che gli atleti pesano 52 kg e sono sempre parte della categoria junior, quindi dai 15 ai 16 anni. E sì, si vede che sono già un bel po' più grandi rispetto a coloro che li hanno preceduti. Quindi approfittiamo per vedere anche le fasi salienti di questo primo round. Vedi come arriva sempre da lontano inguscio, no? Cerca di stendere il braccio. Eh, l'ha preso ancora. Trambi un po' scoperti, devo dire, però... Eh sì, si vede che ancora tecnicamente sono, no? Ovviamente. Andiamo a vedere se la regia ci manda i replay del... Eh, dell'atterramento, purtroppo, non ce l'abbiamo. Dobbiamo andarlo a cercare. Siamo pronti per la seconda ripresa. Devo dire che entrambi non hanno nessuna paura di prendere dei colpi. a me la guardia molto bene, si lanciano in delle combinazioni veramente intense. Sì, diciamo che stanno pensando più a darle rispetto a non prenderle. Si sta sentendo ogni tanto... Ed è forse viene contato da muri. David ha preso un forte diretto. L'arbitro li fa continuare. Eh, ma continua in guscio, eh? Non si ferma. 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 e qui l'ha preso è entrato in diretto l'incontro e suona la campana avendo tanto tanto nella prima ripresa abbiamo visto nella metà della seconda ripresa il ritmo è un attimo calato giustamente stiamo vedendo il guscio ha dato una serie di colpi penso che li essi sentiti davvero non a caso è stato contato in questa ripresa all'angolo blu è stato un diretto sinistro se non erro a essere accusato davvero tanto con i secondi è iniziato l'ultimo e terzo round quando no marchi puoi ritirsi non so no è là non è noi e adesso c'è un po di stanchezza non si vedono più i ritmi della seconda ripresa anche perché soprattutto nella seconda se le sono date forale forse il limite no con la regolarità perché si stava un attimo tirando è un altro bello scambio ed è sempre in guscio comunque da attaccare 10 secondi vediamo il palaozan che si sta riempiendo finisce questi ragazzi non si sono risparmiati si se le sono date senza ragione dai diciamo come stanno le cose allora stiamo vedendo vince i punti angolo rosso in guscio che vince questa ripresa lo avevamo detto già con Marco che ci sembrava essere nettamente in vantaggio ma adesso passiamo alla camera mobile eccoci si andiamo andiamo con Domenico Marco ha già verificato che tutto va bene Domenico allora stiamo vedendo gli angoli che si preparano Marco tu puoi parlare ti sentiamo comunque ah è vero tu non ci senti però in realtà se metti le alti vabbè poi te lo spiego allora Domenico fai un giro una panoramica vediamo tutto il palazzetto che si sta si sta riempiendo ma in realtà possiamo divertirci poco perché è già pronto il il prossimo match siamo un po' in ritardo quindi adesso si va di peta quindi Domenico rientriamo in regia andiamo torniamo da Marco penso abbia anche controllato a questo punto eh infatti dai se c'è stato qualche problema con l'audio segnalatecelo ok puoi qui c'è stato qui c'è stato qui c'è stato pronti per quest'altro match l'angolo rosso di origine rumena cresciuto nella sua matino insieme a suo fratello Cosmin e altri come Franco Antonazzo prossimo alle finali dei campionati italiani ha vinto il torneo dei sordienti e ancora all'angolo blu invece abbiamo congedi Mirko di Ugento cresciuto anche lui nella box terra dotrant di matino con Totò Carafa ora mi dicono che per motivi logistici combatte però per il team Zinfo di Rece si si è dovuto spostare si è dovuto spostare eh congedi sta incalzando si sente anche la responsabilità no? questo vabbè combattere il proprio paese sempre è e finisce qui approfittiamo facciamo vedere le fasi salienti abbastanza in parità no? si saranno anche questa volta tre riprese da due minuti salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo siamo oltre 100 spettatori questa sera ci fa piacere riscontrare questi interessi per questa serata per il resto il titolo italiano è giusto che sia così fuori i secondi andiamo a smirciare nell'angolo rosso dove vediamo il grande antonio carafa stancabile diciamo che rispetto alla coppia precedente loro due pensano di più a non prenderle no? sono molto più attenti nella fase soprattutto difensiva anche se non si coprono molto no? si ma hanno anche tanta distanza però eh si per ora davvero poco corpo a corpo stanno partendo tutti e due da lontano si si sta prendendo coraggio il nostro atleta di casa sta prendendo anche le misure ci ha provato già un paio di volte ad arrivare a segno 10 secondi e andiamo a rivedere migliori scambi di questa ripresa ancora la parità no? Marco non c'è stato nessuno che è riuscito a prendere il comando di di questo mezzo sostanzialmente siamo lì forse qualche scarica in più di colpi da parte di congedi fuori secondo vediamo ancora i replay finiti pronti per la terza ripresa vediamo sempre Antonio Carafa sostenere il suo atleta all'angolo partiti terza e ultima ripresa Ignat sembra essere agguerrito sembrano essersi alzati i ritmi però le lunghezze l'ultima ripresa cercano di dare tutto il ciò che è rimasto è certo ci siamo anche dimenticati di azionare il cronometro comunque dicevo Marco continuano a rimanere a lunga distanza si temono i due ール o le Grazie a tutti. Mette assieme due colpi con Gedi. E sta per finire il match. Gli ultimi scambi. Gedi ha proprio pochi attimi. E arriva il suono. E finisce qui. Direi che ci sta tutta la parità qua. Andiamo a sbirciare anche gli angoli. Mentre vediamo il palazzetto dello sport di Urgento essere sempre più pieno in vista del main event. Ma andiamo a vedere la proclamazione. E' curioso di questo momento. Pari, infatti. Proprio come ci aspettavamo. Siamo gli atleti premiati dalle nostre Roland Girls. Allarghiamo ancora una volta. Per far vedere anche il colpo d'occhio del Palau Zan. Prossimo match. Prossimo match. Angolo rotto con parella Tome Davis della palestra Big Box. Angolo blu con la mano aperto della palestra Box del Roppio. Quindi... Categoria 55 kg. Distriteranno match. Tre ripese per due minuti. Ok. Chiedo... Conferma a Marco, quindi... Abbiamo Mancarella Antonio Davis. Angolo rosso. Nell'angolo rosso Mancarella e nell'angolo blu Palama. Categoria 55 kg. Fuori secondi. Fuori secondi. Sempre la Big Box di copertino. Angolo rosso. Stiamo vedendo inquadrato proprio ora. Gli ultimi preparativi si portano al centro per i saluti. È tutto pronto e sono partiti. Ripa di persi. Il fuori secondi. Vanag Starca. Ho abbiamo fatto il raff … Ho abbiamo fatto il raffa croce, facciamo il raffaccione. Talla. Fai**. Allora, altra sta cost intéressando un raffaço. Chiara. Giara. Oh,なんra. Grazie a tutti. Buona un paradenze. L'abbiamo visto proprio dall'alto, dall'inquadratura dall'alto, chiaramente saltare. Mentre abbiamo passato da poco l'ora di diretta di D'Augento. Adesso il pubblico è il palazzetto, crescono anche gli spettatori, vedo qui nella nostra diretta. L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Approfittiamo come al solito per vedere le passi salienti. Eccolo qua, il paradenti che salta. Fuori secondi. Fuori secondi. E' eccoci tornati in diretta. Partiti. secondo round tra Mancarella e Palamache. e come al solito palamache inizia l'attacco anche questa volta. e come al solito palamache inizia. e come al solito palamache inizia. E' eccoci tornati inizia. E' eccoci tornati inizia. E' eccoci tornati inizia. Ancora meglio. E' eccoci tornati inizia. E' eccoci tornati inizia. E' eccoci tornati inizia. E' eccoci tornati inizia. E cosa dice. come ti è sembrato? Qualche colpo messa a solito in più da Palamache. E' un attimo più aggressivo rispetto a Mancarella. Sostanzialmente come anche gli altri match. E' eccoci tornatori. una situazione sostanzialmente di parità comunque non c'è troppa differenza tra i due e sono stati bravi i tecnici a selezionarli a metterli insieme si riprende e si va forte subito si riprende 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 che abbiamo assistito ad un altro pareggio si riprende 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 verso la finale dei mondiali perché è quello che ci attende salutiamo tutti i nostri 160 spettatori quindi una serata anche di record per noi perché stiamo riuscendo ad avere una platea sempre più vasta vediamo gli ultimi preparativi per l'angolo rosso l'arbitro è già pronto al centro del ring sta facendo avvicinare i due atleti è tutto pronto mi confermi sempre due minuti no? tre round da due minuti e si inizia puoi notare Riccardo la stazza siamo sui 70 kg possiamo dire che iniziano a menare duro questi Marco sappiamo che tu sei abituato a incassare colpi di un certo tipo perché comunque usare anche gli arti inferiori fa male però questi cioè questi atleti di questo peso iniziano ad avere dei colpi davvero duri se ti prende bene un colpo nonostante i guantoni da pox il caschetto ma posso assicurare e garantire che tutti si sentono è proprio come questo infatti stiamo vedendo un altro scontro tra due atleti che preferiscono l'attacco alla difesa no? comunque è noto che hanno l'intenzione di vendere la manatella la pedale nonostante il crescendo tecnico con le impostazioni in guardia e portare i colpi è finito il primo round andiamo a vedere come al solito i migliori scambi di questa ripresa te li faccio vedere lo schermo grande la massa più vicino e più grande grazie e abbiamo visto 40 portare più di un colpo quindi qua è riuscito a schivare e poi a toccare l'avversario mentre ci spostiamo nell'angolo di garantino abbiamo visto anche la stazza dell'allenatore nell'angolo blu da sempre nella box dobbiamo fare il pignataro peso leggero no? super massimo gli piaci guardiamo dei un po' un po' di Grazie a tutti. La boccia è portata in avanti il garantino, l'ho richiamato dall'albico che non è troppo avanti. Sta picchiando 40. Finisce la ripresa, andiamo a vedere come al solito gli scambi più belli. E dal rallenti si vede anche la grinta che ci mettono negli scambi. L'occhio della tigra. Fuori i secondi. Dai lì un po' di... Terza e ultima ripresa. Eccolo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha saltato il paradenti ancora. Il Tarantino lo vedo più provato rispetto all'avversario. Sì, sì, sì. Torniamo fra tre minuti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 . . Sì. 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 Thank you. Sì. 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 It's a. Sì. più belli ed eccoci tornati live invitiamo tutti coloro che ci seguono a condividere il link sui propri social per permettere a tutti di seguire questa serata e andiamo con il terzo e ultimo round di questo incontro tra Colo Giuri e Tommasi finora è stato Tommasi quello più attivo anche se Colo Giuri comunque ha portato più di un colpo grazie a tutti grazie a tutti un minuto alla fine di questa difesa un minuto alla fine e finisce qui che dici Marco? beh sicuramente Tommasi più attivo vediamo un po' di replay l'ultima ripresa è stato passivo secondo me sì 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 è vero nell'ultima ripresa con lo giuri forse è riuscito a mettere qualche colpo in più stiamo vedendo comunque i replay proprio di quest'ultima ripresa andiamo a vedere Calocciuri è infatti forse appunto l'ultima ripresa ha fatto la differenza l'ultimo round no Marco vediamo sempre di più spettatori online stiamo leggendo tutti i commenti tanti tifosi del Tigre Acatullo vi salutiamo tutti oggi siete i nostri ospiti sicuramente sarà uno spettacolo vedere Francesco Acatullo contro l'idolo di casa Giuseppe Bullet Carapa adesso dovremmo avere l'incontro di Santoro il figlio di Santoro il più gine conosciuto sì 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 sta arrivando il suo momento cosa ci puoi dire di questo atleta Marco? vediamo vai a scartavellare nei tuoi appunti categoria Elite e appunto la particolarità è che è figlio del demonio Santoro il dinamite è un raro caso in cui appunto si passa la staffetta ovunque entrambi sono ancora attivi di combattere e il squadro di Santoro avrà un match per pochi giorni sul ring di Marsala all'altro lato comunque abbiamo De Fosco Thomas guidato dal tecnico Perrone gareggia in una categoria di peso che non è la sua e ha 12 match eccoli qua padre e figlio all'angolo rosso li stiamo vedendo proprio ora da questa inquadratura particolare 56 kg per questi ragazzi eccoci qua all'angolo di Santoro andiamo a vedere dall'alto anche l'angolo blu pronto vediamo l'arbitro chiamare i due italiani al centro del ring tutto pronto partiti prima ripresa De Fosco partito meglio ha messo subito due bei colpi a segno fase di studio no? questa iniziale De Fosco richiamato dall'arbitro iniziale Grazie a tutti. 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 Ancora una volta è sempre il gancio sinistro ad entrare. Alla a destra. Ancora una volta va a segno con il gancio sinistro. Abbiamo visto questa inquadratura. Quanto spazio tra i colpi di Santoro. Il suo avversario è il suo avversario. Andare più verso... Quasi un ribaltamento verso il tuo sport, Marco. e finisce... Qua è il match. Ah, è la seconda ripresa. Ah, quindi... tutto pronto allora... Tutto pronto allora... Alla... Grazie a tutti. 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 Vediamo il perdetto di questo mezzo. Grazie a tutti. 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 Quindi, lecci nell'angolo rosso e russano nell'angolo blu. Si inizia. Grazie a tutti. Angolo blu. Abbiamo richiamato. fermare il timer. abbiamo perso, abbiamo perso. però, tempo ancora si può perdere sangue dal naso russano ancora una volta l'intervento medico vediamo il medico che sta sta lavorando proprio sei riuscito a capire dove perde sangue dal naso preso un gancione da parte di Lecci nell'inizio e continuo a perdere sangue quindi questo è ancora dimostrazione che anche con i caschetti i colpi comunque si sentono assolutamente sì tutti i colpi che si dicevano frontalmente come ad esempio appunto sul naso mentre continuano a salire i nostri spettatori siamo arrivati a 190 e anche il palazzetto è quasi totalmente pieno continuiamo a vedere gente che arriva adesso ci fa solo piacere perché dobbiamo arrivare tutti i carichi e pronti per fare il tifo per il nostro Giuseppe Carafa ancora una volta a tempo sicuramente il nostro timer non andrà in sync con quello ufficiale perché il dottore è già la terza volta che deve intervenire facciamo vedere da lontano e chiama lo stop medico e niente quindi si conclude qua questo match un knockout tecnico era impossibile andare avanti quando andiamo a vedere qualche replay soprattutto di quest'ultima ripresa così l'ha preso subito a freddo il colpo si è iniziato già nella prima ripresa forse è stata anche la prima azione di Lecci che è partito questo gancio destro peccato perché Lecci ci sembrava convinto però vince Ancora Rosso Lecci Mancol e la manistra di Sopozzo per RSC e giù e si torna all'inquadratura larga per vedere il palazzetto Tiziano Mani di Uggento grenito per questa serata c'è ancora qualche posto sulle curve ma il resto è davvero tutto pieno è davvero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Jimmy Ivan, angolo blu. Grazie a tutti. 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 Bello questo scambio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 10 secondi. E andiamo a rivedere i momenti salienti di questo primo round, Marco. tanto studio in questa prima ripresa. se non negli ultimi 30-40 secondi. se vuoi alzare. se vuoi alzare o abbassare il volumino. se vuoi alzare o abbassare il volumino. E stiamo continuando a vedere i migliori scambi di questo primo round che ha visto sostanzialmente un equilibrio. se vuoi alzare il volumino. Ancora troppo presto per dare un piccolo parere. si inizia. Seconda ripresa. 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 grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo anche in privato per dirci dei dettagli tecnici siete sempre di più vi ringraziamo tutti un saluto a Luciano a Frank Bramato che è una delle punte di diamante di Ozan News lo ricordiamo live tutti i mercoledì con Frank Saus e vi aspettiamo anche giovedì prossimo in diretta con Ozan Sport con Gianluca Pierri sicuramente ci sarà modo di parlare di tutto quello che sta avvenendo oggi ma torniamo proiettati a attenti a quello che sta avvenendo sul ring del palaozan oggi ha ghindato a festa per la finale italiana del titolo dei pesi leggeri professionisti tra Giuseppe Carafa e Francesco Cadillo manca sempre di meno al main event di questa sera è aumentato il pubblico si inizia a sentire rumoreggiare Marco grazie a tutti ieri a tutti ieri a a tutti ieri a tutti ieri a tutti ieri a andiamo a vedere qualche replay un po' di secondi iniziato terza e ultima ripresa eh qua una una presa pure questa Marco abbastanza a limite poteva diventare un passaggio in schiena eh certo sì adesso c'è Jimmy che sta praticamente baraccando il suo avversario cela lo lascia andare lo vedo un attimo più lucido Jimmy rispetto al suo avversario cela qua l'ha sentito che è la eh il passo indietro e il rientro immediato di Jimmy anche qui vediamo Jimmy che accorcia poi entra e fa male è meno statico rispetto a Francesco legano i due ancora una volta adesso inizia anche la stanchezza a farsi sentire ma è sempre Jimmy che entra dal basso questa volta e tocca c'era bellissimo questo scambio l'arbitro l'arbitro che va a controllare le condizioni di tutti i due gli atleti 10 secondi 10 secondi e ancora una volta a Jimmy che tocca la persa e andiamo a vedere gli scambi più belli di questo round come è andato Marco sicuramente una box più pulita per entrambi e ho visto appunto Jimmy più reattivo rispetto a Francesco vediamo il verdetto della Giulia l'arbitro della Giulia ed è pari è andato ad aspettarselo comunque sì e torniamo larghi che cosa ci attende adesso Marco? abbiamo l'ultimo match di elettantistico a breve l'ultimo match della Giulia e poi categoria 65 kg elite come Oliveri giannotta e intanto Marco abbiamo passato i duecento spettatori simultanei siamo molto molto vicini al match clou della serata intanto vediamo come anche quasi entrambe le curve sono più affollate rispetto a prima lo stiamo vedendo dall'inquadratura dall'alto del palazzetto ma lo possiamo vedere anche dall'angolo rosso dove si vede la tribuna di casa piena c'è più di mille persone questa sera qui al palazzetto quindi abbiamo l'angolo rosso ripetiamo Olivieri Michael sempre della Body Alive di melissano sei match ed è l'angolo rosso di Milano di Milano. un mancino proprio come il nostro Giuseppe sappiamo che i mancini sono rari in questo sport e vengono visti anche con una certa diffidenza dei loro avversari nell'angolo blu invece Giannotta Omas della Fight Club di Gallipoli con otto match, due match in più rispetto a Olivieri siamo partiti fortissimo tutti e due grazie a tutti se ne vanno Marco, rapidi scambi vanno alle gare anche per prendere fiato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ancora Giannotta che prende l'iniziativa il tazzo a Olivieri che reagisce però si chiude bene Giannotta andiamo a vedere gli scambi più belli di questa prima ripresa e lo speaker ha annunciato proprio ora che sta per arrivare il momento più importante di questa serata adesso stiamo vedendo i replay degli migliori scambi fuori i secondi fuori i secondi partiti partiti avevano iniziato così anche la prima ripresa adesso adesso Olivieri richiamato dall'arbitro per l'uso della testa per l'uso della testa no Marco grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi guardiamo dopo questo, vedremo il nostro Giuseppe Carafa salire sul ring. Ed ecco qua il finish, la seconda ripresa. Andiamo a vedere gli scambi più belli di questo round. E' tutto pronto. Ecco i richiami dell'arbitro che avvisa effettuare scorrettezze. Grazie. 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 Un'ottamnese.it sulla ombra Andiamo a vedere Il verdetto Vediamo Tu che dici Riccardo Ma Io sono stato un po' distratto Non per niente Stai al commento tecnico Ci proviamo Non è la mia disciplina Ma quando i colpi vanno a segno Vanno a segno Io che comunque Sono abituato a commentare il calcio E questo era l'ultimo match Direttantistico Ora ci prepariamo Abbiamo l'errodo di rito Patch titolato Eh sì Adesso il palazzetto è davvero pieno Siamo Siamo 230 Aspettatori Da tutta Italia E non solo E non solo Abbiamo visto che c'è gente che segue anche Sì 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 Abbiamo visto che Chi commentava dall'Olanda Dalla Svizzera Sì scusa Questo ci fa davvero piacere Ozan News oggi è riuscito a portare Uggento in tutto il mondo E a far vedere una delle cose più belle Di questa città Che è il nostro palazzano Sì Guarda puoi rilassare Adesso ci sarà un intermezzo Ci sarà un intermezzo dedicato al ballo Avremo la sorella di Franco Antonazzo Che ballerà Incontro Clou della Serana Con Giuseppe Bullet Carano Contro a Catullo Francesco Frenta Tigre Di Gamano Ci saranno dunque Benedetta Antonazzo E Michael Costantino A ballare A ballare Pensavo un altro messo Prima del main event Ci sarà un momento anche per riprendere fiato Si ballerà Sono due ragazzi che ballano latino americano Benedetto l'abbiamo già detto La sorella di Franco Ed ecco lì che stanno Entrando Proprio ora Eccoli qua Che stanno facendo Il loro ingresso Sul ring Che stanno facendo Che stanno facendo Che stanno facendo Buongiorno 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 di ballo, tutto pronto per il momento clou della serata, il passetto è pieno, signori e signori, buonasera, con grande onore e con orgoglio, vi presento questa bellissima serata di boss, avete già avuto un piccolo altipasso, ma adesso abbiamo il clou, il titolo italiano del nostro compaesano, l'amico che conosco quando era piccolo, Giuseppe Buller Carapa e sentiamo il boato per il nostro Giuseppe, ci siamo, il pubblico inizia a scaldarsi perché a momenti iniziamo signori, questo è un rapporto fatto di lealtà rispetto di regole, quindi facciamo un grosso applauso anche al nostro avversario, il titolo italiano, messo in bagno, la categoria è che sono i pensi letteri, questo è stato un evento che è stato organizzato grazie agli amici del fondo che hanno contribuito a questa bella serata e quindi decidiamo, profeta, ingegneria il titolo italiano, intanto siamo 250, Marco ha sempre più spettatori per questa finale del titolo italiano, il palazzetto è gremito, non c'è più spazio, è così come doveva essere, io sono felice già così. E' un grosso ringraziamento al comune di Ucenco, un applauso. Allora, vorrei anche fare qualcosa dire l'arbitro che dirigerà questo incontro, il signor Enrico Berlizi, la giuria composta dal signor Rosario De Rosa, Giuseppe Russo e Stefano Berlizi, il supervisor è il signor Sebastiano Capupo, il comissario di riunione, il signor Massimo Costantini, il medico di questo campionato, il dottor Angelo Balanziano, facciamolo anche un applauso a queste figure che mi permettono di poter realizzare tutto ciò. e adesso facciamo salire l'oggetto di misteri dei tre bucci, la cintura di campione italiano, la porta, la signorina del sire Torsini, figlia di Imonia, Camini e Fabrizio Torsini. Eccola qua la cintura Marco, sempre molto molto belle le cinture. e oggi è un tema organizzato qui a Genco dal manager Antonio Camini e dal mio Rosanna Conti Camini, che è anche il organizzatore di tutti questi eventi. Quindi un applauso alla signora e al manager di Fuglia Scalini. Adesso facciamo salire i dottori della serata. Allora, caro C. Nicola, Presidente del Comitato regionale del Puglia, la sindicata della Federazione Fugilistica Italiana, sull'Igretto Storti, con la causa. Signor Andorazzo Franco, correnti, grazie. L'assessore del posto di un gesto, signor Ozza Enzo. Signor Mimma Ciccoletta, collaboratore Stil Conti Camini. Fabrizio Corsini, Presidente del Comitato regionale del Puglia, con il Puglia Tattini. Riccardo Pinceni. Il nostro Riccardo è invitato a salire. La maglia del Lugento. E già sul ring, la vena per Puglia Camini. Un applauso. Signore e signori, da oltre 40 anni, insieme a Marino Alberto, organizzato eventi di box, nazionali e internazionali. Signore e signori, la gol dell'eve della box internazionale, la signora Rosanna Chiazzotti Camini. E adesso, salvo le ragazze, immagine di questa serata. Un applauso a queste due belle faccine. E adesso, è il momento dei protagonisti di questa serata. Da un cento, all'agolo rosso, al peso, e senza tutti, e cento occhi cammini. È il momento del nostro Giuseppe. Giuseppe, all'agolo rosso. Giuseppe, all'agolo rosso, all'agolo rosso, all'agolo rosso. All'agolo rosso, all'agolo rosso, all'agolo rosso, all'agolo rosso. All'agolo rosso, a voi, risentando, la stessa conchienza. Davoghera, sconcesso, la fine di Carimano, a Capullo. All'agolo rosso, in 70 km e 800. Adesso viene presentato il suo avversario, Francesco Acatullo. Adesso viene presentato il suo avversario. Adesso viene presentato il suo avversario, Francesco Acatullo. Adesso viene presentato il suo avversario, Francesco Acatullo. Adesso viene presentato il suo avversario. Adesso viene presentato il suo avversario. Adesso viene presentato il suo avversario, Francesco Acatullo. Un ricordo anche al dottor Ozza Enzo, settore dello sport della città di Ugento. Come potevamo anche un ricordo a Don Delevi, la signora Rosanna Conti-Canini, organizzatrice di questo evento. Ricordo anche a Don Delevi, la signora Rosanna Conti-Canini. E l'ultimo, per ultimo, al signor Riccardo Pinicelli. Dai, Elidi! Adesso vorrei che l'assessore profondo della nostra città, Ugento, ci indica un valore. Grazie a lei, Alessio. Grazie e buonasera a tutti. Tanto molti saluto da parte del sindaco di Interamministrazione Mondale. Che dire, una manifestazione bellissima di esserci una città di fare punti per il nostro cittadino. me ne voglia l'ospedante, però, stasera mi chiesto tutte di Giuseppe. Permettetemi di ringraziare l'organizzazione dell'evento, del team, dello Stano, di Camini, nella persona della regione Rosanna. Siamo stati sempre, in questi giorni, a sentirci assolutamente perché i problemi, purtroppo, non mancano mai. Ringrazio l'associazione Boxer Ocratto, nella persona dell'amico Totò Perava. Oggi si parla di Boxer, oggetto, in ergo e tutto e soprattutto di Totò. E non per ultimo per ringraziare l'associazione Lenti Esporta e la persona di Minunzo, perché è sempre pronta a dare una mano quando c'è da organizzare qualsiasi tipo di evento. E non altro, neanche e soprattutto i volontari in questi giorni hanno lavorato tanto. Che dire, io ogni volta che c'è una manifestazione faccio un appello. Faccio un appello a tutti i ragazzi, ai genitori dei ragazzi. Non c'è cosa, secondo me, più bella che un ragazzo faccia sport. Sport di qualsiasi tipo, sia individuale che sport di squadra. Perché lo sport, Francesco, è cooperazione, stare insieme e condividere sconfitte e vittorie. E lo sport è anche farsi aiutare e allo stesso tempo dai compagni, allo stesso tempo aiutarli. E allora, se si capisce questo, se i ragazzi capiscono questo, ripeto, aiutare e farsi aiutare e anche da parte dei genitori. Lo sport, lo sport, non voglio essere benissimo. Se si capisce questo, il prese cambia, il mondo cambia da così a così. Grazie a tutti e buone grazie. Un applauso anche alla sessione. Due parole assorture al Vottor Causi, presidente del Comitato regionale Muglia, rappresentante della federazione. Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Un ringraziamento di rito alla Pottigabinia e sempre alla signora Rosanna, che è il camministro con la sua presenza. Ormai un appuntamento costante. Un grande ringraziamento a Pottor Causa, con la sua Pottigabinia, perché mi ricorda sempre il vigilato a tantissimi difendi della città di Genico. Mi ricorda che è stato insieme anche al maestro Francesco Filippa, che è stato nell'alberato dei comuni con più della Pottigabinia, con più organizzazioni in Italia. Quindi penso complimenti a Giuseppe, complimenti appassati da Gatturo, sicuramente parlando a Mischi, a valtezza della situazione. Grazie a tutti e grazie soprattutto per condividere questa passione del cucinato. Allora e adesso andiamo con la parte più emozionante, l'inno mercenale italiano, dedicato, amici dedicato, uomo di sport, marito, compagno, e raccordi e neri, Rosanna, con i camini, il signor Unberto Carini. Questa è l'inno italiano e lo ascoltiamo con piacere. Questa è l'inno italiano e lo ascoltiamo con piacere. Questa è l'inno italiano e lo ascoltiamo. Un applauso del pubblico. Il tempo del pubblico è terminato. Lasciamo la parola al ring e ai due gradatori. Un applauso. E ora appunto scendono tutti dal ring. e resteranno solo i due combattenti e l'arbitro per rivelarci questo match. Fondiamo anche Riccardo che si sta raggiungendo di nuovo impostazione. Ci siamo tutto pronto. Eccomi tornato dopo questa bella sorpresa Riccardo. Tutto pronto. parte l'applauso del palazzetto per questo match. Grazie. 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 A sostenerci in questo commento tecnico il pugile ex pugile Fabio Pignataro. e siamo partiti con questo match. Sì, una fase di studio tra i due atleti. Sì, anche perché non ci sono state ancora reazioni che hanno entusiasmato il pubblico. Giuseppe Bullet Carafa ha il suo attivo 26 match. 18 vittorie, 6 scompitte e 2 pari. All'altra parte Francesco Acatullo, la tigre di Caivano viene da Poghiera però. Ecco già si comincia a scaldare il pubblico. Diciamo che Francesco Acatullo ha 29 match al suo attivo, 14 vittorie, 12 sconfitte e 3 pareggi. Carapha è angolo rosso con pantaloncino rosso, mentre all'angolo blu Acatullo con pantaloncino nero e oro. Grazie a tutti! attraverso un bello, gancio sinistro di Carabba che è stato subito ribattuto da un gancio sinistro di Agatullo. Il primo stop, protagonista sempre in una classica fase di studio della prima ripresa. Sì, come caratteristico dei contretti. Da un personistro in una fase di studio, la prima, sicuramente, i due fuggiri imparano a conoscere il proprio avversario. Abbiamo visto poche schermate, sono state, diciamo, attubite e parate da entrambi i bucci. Il palio è alta, quindi tutti e due hanno paura di sbagliare. Si va a pericurati e sempre crescendo di ripresa in ripresa. Adesso, agli angoli, i tecnici stanno dando consigli. Adesso vediamo il maestro di Francesco Stefani con Carafa. Grazie! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. più avanti vedremo. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. su. a tutti. 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 si avvicinata. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.